Carol era una donna molto coscienzosa e minuziosa su ogni punto della sua vita, specialmente quando si parlava di soldi. Riusciva a gestire perfettamente un po' tutto economicamente, ma ahimè aveva il vizio del gioco. Questo l'ha portata alla bancarotta, scommetteva su qualunque cosa. Nonostante riuscisse a gestire perfettamente il denaro necessario sia per la spesa che per gli altri bisogni di tutti i giorni, quando si trovava davanti a delle scommesse perdeva la ragione. C'era anche un altro problema, il fattore maschile. Non era mai riuscita a stare con ragazzi diciamo normali. Tutti non facevano altro che farle spendere soldi e piuttosto che aiutarla a superare il suo problema si univano a lei, giocando notte e giorno, usando ovviamente il suo denaro. Almeno da quelle storie imparò una dura lezione. Non tutte le persone erano affidabili. Aveva un buon lavoro di ufficio, ma a causa delle sue assenze ingiustificate lo perse. L'ultimo ragazzo con cui era stata, Henry, le ha mostrato quanto il mondo potesse essere davvero crudele. Per colpa sua continuava a saltare giorni di lavoro e alla fine quest'ultimo l'ha mollata con questa frase. Ascolta io ho da fare, ci sentiamo. Ma non si fece mai più sentire. Per ben cinque anni era rimasta con lui pensando fosse diverso. Dopo tutti questi eventi è riuscita a cambiare e recuperare dalle sue dipendenze, ma ahimè, ormai il passato si era compiuto. Quindi non poteva riavere i soldi persi o l'amore o il lavoro. Poteva solo andare avanti. Dopo essersi riabilitata in una struttura era il momento per lei di cercare un nuovo lavoro. È una casa, visto che la precedente era in affitto e ormai persa. Tra i parenti che le volevano più bene c'erano i nonni. I genitori avevano cominciato a ignorarla perché non faceva altro che chiedere soldi per giocare. Piuttosto che aiutarla l'avevano cacciato di casa e basta. I nonni non le davano soldi, non avendone molti, ma cercavano sempre di aiutarla. Per questo andò a casa loro. In più erano insieme da quarant'anni. Sicuramente qualcosa sapevano sull'amore, poteva imparare magari a relazionarsi e scegliere meglio. In realtà all'inizio il loro fu solo un matrimonio di convenienza perché entrambe le famiglie dei nonni erano povere e per risanare la situazione economica decisero di fare così. Ma i due fortunatamente si conoscevano già da piccoli e questo fu un buon colpo. Comunque sia, arrivata a casa dei nonni, aprì la porta a sua madre. Come mai? Si chiedeva. Non sai nulla, vero? I tuoi nonni non ci sono più e ovviamente tu hai perso l'opportunità di vederli, almeno un'ultima volta perché dovevi riabilitarti dal tuo problema. Fu una notizia sconvolgente e cadde a terra dalla tristezza. Si mise a piangere perché gli voleva veramente bene. Mettiti comoda, tuo padre è andato a prendere da mangiare. Disse con tono altezzoso e arrogante la madre. Ormai non provava più il minimo rispetto per sua figlia. Dopo una decina di minuti la madre però chiese una cosa strana. Vuoi cucinare qualcosa per me e per tuo padre? All'inizio le sembrò la solita madre a cui era abituata, ma quell'unica domanda le fece cambiare idea perché non le aveva mai chiesto una cosa simile, addirittura voleva aiutarla. Quindi avrebbero cucinato in due, cosa che nemmeno da piccola era riuscita mai a fare. La sua severa madre forse era cambiata dalla morte dei nonni? Dopo aver cucinato insieme silenziosamente andò a farsi una doccia per prepararsi a ricevere suo padre nel migliore dei modi. Anche lui era severo ma quando si trattava di pulizia era anche peggio di sua madre. In quel momento si stava preparando al meglio perché non aveva altro posto dove andare e probabilmente la casa dei nonni ormai era diventata quella dei genitori. Molto probabilmente era la loro eredità doveva comportarsi al meglio per riuscire a rimanere il più possibile. Arrivata l'ora di cena con tutta la famiglia a tavola c'era qualcosa di strano. Il padre non aveva fatto il minimo cenno, l'aveva salutata normalmente e non aveva fatto i suoi soliti commenti sarcastici sul suo modo di vestirsi o altro e ne fu sicura quando all'improvviso alzandosi le chiese. Vuoi qualcosa da bere tesoro? Oppure vuoi del pane o dell'olio per condire? Anche in questo caso rimase molto sorpresa dall'azione di un genitore. Mai le avevano mostrato un amore così. Ad altri potrebbe sembrare poco ma per lei era tantissimo. Alla fine della cena sedendosi sul divano cominciarono a parlare e Carol disse loro di avercela messa tutta. Il padre sentendo quelle parole si mise quasi a piangere. Lo so piccola non siamo stati molto gentili è vero e non siamo stati nemmeno i migliori e ci dispiace specialmente per aver dubitato di te. Dopo quello si abbracciarono forte. Quella serata fu veramente molto allegra e diversa dal solito. La madre propose addirittura al padre di trovare un lavoro alla figlia non importava come ma voleva che il marito usasse le conoscenze per aiutare Carol. Beh figliola avrei un amico che sta aprendo un ristorante e comincerà a lavorare prossima settimana. Necessita di personale saresti perfetta se ti interessa ovviamente. Carol ringraziò di cuore per l'opportunità. Grazie papà stavolta ce la metterò tutta te lo prometto sono diversa sono cambiata. La settimana seguente si alzò molto carica il lunedì per prepararsi al suo primo turno di lavoro. Era diverso dall'ufficio dove poteva entrare molto tardi. Qui gli orari erano serrati e quindi aveva messo cinque sveglie per essere sicura. Dopo una veloce colazione una veloce doccia fatta sul momento si avviò salutando i genitori ancora addormentati. Arrivata al ristorante non trovò proprio una persona amichevole ad attenderla. Ah sì tu devi essere quella nuova mettiti questo e vai in cucina a prendere gli ordini del tavolo 3. Nessun saluto nessuna introduzione. Un tempo si sarebbe arrabbiato per queste cose ma stavolta no voleva fosse tutto perfetto e non deludere i genitori che sembravano veramente cambiati. Forse in futuro avrebbe potuto anche ereditare la fattoria di famiglia molto lontana dal posto in cui abitava. Era una piccola zona con degli animali. In quel mese era gestito da altre persone ma quando i genitori avevano tempo andavano loro stessi a vedere i frutti del lavoro. Le avevano detto che sarebbero rimasti in città un po' di tempo prima di chiudere a chiave la casa dei nonni ma non sembravano però aver accennato al fatto di volerla far rimanere lì. Stranamente nemmeno l'avevano ascoltato quando aveva chiesto. Comunque le prime tre ore andarono così così tra alti e bassi. La sgridava sempre a ogni errore il capo e non aveva un solo minuto per capire come funzionavano le cose. Finalmente durante la pausa decise di mangiare qualcosa e riposarsi ma il direttore nonché amico di suo padre la chiamò in ufficio. Oh entra pure volevo solo conoscerti. Come ti stai trovando? Sembrava gentile. Quindi Carol sorridendo rispose. Benissimo un po' difficile imparare in fretta ma ce la metterò tutta. Dopodiché l'uomo continuò. Ah ok ok. Ascolta oggi rimarrai due ore in più a sistemare le cose va bene? Dopodiché chiuderò io il ristorante prima di uscire. Ora vai pure. Due ore non erano poche e a Carol sembrava strana una cosa simile già il primo giorno ma decise di non mollare e andare avanti. Dopo la faticosa giornata con anche due o tre piatti rotti finalmente poteva andarsene a casa. Arrivata verso le nove di sera con il turno concluso si mise immediatamente sul divano. I genitori erano molto contenti e le dissero che si era meritato un po' di riposo. Ora aveva di nuovo loro due su cui contare. Continuò questa routine per tre mesi. Alzarsi e tornare tardi. Ogni settimana il capo le chiedeva di rimanere almeno quelle due ore in più quattro giorni su sette, a volte anche cinque giorni. Era estenuante ma ancora resisteva per non deludere i genitori. Il periodo di prova sarebbe durato altri due mesi quindi non poteva chiedere di accorciare i turni ma un giorno il direttore le chiese una cosa troppo difficile. Prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale telegram ufficiale dove metto spesso sconti dalla mattina alla sera. Quindi se avete voglia di comprare qualcosa all'improvviso provate a vedere sul canale potreste trovare bella roba da amazon e con prezzi veramente stracciati. Continuiamo. Ciao Carol, un favore da chiederti. Da adesso in poi dovrai venire anche domenica almeno quattro ore di mattina o di pomeriggio, scegli tu. All'inizio lei accettò, non sapeva bene come prenderla, era rimasta senza parole. Tornò a casa distrutta come al solito e non c'erano i genitori. Quanto pare erano partiti quel giorno per tornare a casa senza dire nulla a Carol, ma lasciandole soltanto una lettera. Tesoro, il mio amico mi ha detto che lavori bene e che quindi è tutto a posto tra me e lui e potevo tornarmene a casa. Ti abbiamo lasciato le chiavi, torneremo tra qualche mese a vedere la situazione e riprendercela. Intanto trovati un appartamento tuo. Pensava le avrebbero regalato quella casa o comunque fatto pagare un affitto per rimanere, ma niente di tutto ciò. Era molto delusa, ma una cosa la lasciò un attimo con delle domande. Cosa intendeva con è tutto a posto tra me e lui? Cosa c'entrava con il suo lavoro? Quella notte era troppo stanca per pensare ad altro e se ne andò a letto. La mattina seguente però decise di farsi forza a parlare con il direttore per risolvere la questione. Non voleva assolutamente fare quel turno domenicale. L'unico giorno libero preferiva passarlo in tranquillità perché per quattro giorni per di più doveva fare due ore extra come detto prima. Salve signore, vorrei chiederle se è possibile di togliermi il turno domenicale. La risposta la confuse un attimo. Va bene, però tuo padre mi aveva assicurato che così saremmo stati a posto io e lui. È che io potevo farti lavorare a mio piacimento. Gli parlerò più tardi. Carol non riuscì a ribattere. Era scioccata. Cosa voleva dire quella frase? Cosa intendeva con saremmo stati a posto io e lui? La storia stava diventando inquietante, temeva suo padre avesse fatto qualcosa di brutto. Tornata a casa tardi, anche quella sera voleva semplicemente stendersi a letto, ma all'improvviso sentì una chiamata al cellulare. Senza nemmeno salutare, il padre arrabbiatissimo urlò. Cosa diavolo sta succedendo? Perché il direttore mi ha detto che vuoi mollare? Pensi che sia uno scherzo? Carol cercò di spiegargli che non voleva mollare, ma solo evitare il turno domenicale. Ma il padre piuttosto che essere comprensivo per un attimo tornò a quello di un tempo. Forse non mi hai capito. Tu devi fare ciò che ti dice. Il mondo non è tutto rosa e fiori. Pensi che potremo continuare ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno? Quella fu la frase più brutta detta dal genitore. Voi non mi avete mai aiutata per anni e mi avete abbandonata. Solo i nonni erano dalla mia parte. E poi a te cosa importa ormai? Non mi avevi semplicemente suggerita e basta? Cos'altro c'è sotto? Fu lì che tutto il mondo di Carol cadde. Non hai capito bene. Io avevo un debito enorme con il mio amico. Anzi, ce l'avrò ancora se non ti comporti bene. Stavamo per perdere la fattoria e gli ho chiesto un prestito. Mi ha chiesto in cambio di procurargli un dipendente che facesse ogni tipo di turno per la paga minima in modo da risparmiare e stare sereno con il fisco. Così gli ho proposto te per darti una possibilità di redimerti ma sembra che tu non abbia imparato niente. Prossimo mese se le cose non cambiano verremo a riprenderci le chiavi di casa e ti sbattiamo fuori. Fu uno shock totale. Non erano cambiati. Facevano finta di essere gentili perché volevano usarla per ripagare i loro debiti. Lei soltanto era cambiata in quegli anni. I genitori erano rimasti subdoli e viscidi come una volta. Pianse tutta la notte e la mattina fece fatica a svegliarsi. La sua vita era tornata uno schifo di nuovo. Andò a lavorare con meno voglia che mai. Ma il capo Sala continuava a sgridarla alla minima cosa. Lei ovviamente non poteva reagire, nemmeno far vedere che era debole e triste per essere stata completamente abbandonata. Teneva tutto dentro di sé. Cominciò anche a fare i turni domenicali. Cos'altro poteva farci? Se voleva tenersi il lavoro quello era l'unico modo. Per un mese intero fu una vita infernale. Finché un giorno non cadde durante il ritorno a casa scontrandosi con un ragazzo più o meno della sua età, molto elegante. Davanti al ristorante non l'aveva visto entrare, eppure sembrava uscito da lì. Stai bene? Sì, grazie. In quel momento si era messa a piangere, perché anche quel giorno era andata malissimo. Cominciò a camminare per andare a casa senza farsi vedere in volto, correndo via. Ma arrivata ad un veicolo vide dei malviventi, ragazzi che vedendola decisero di derubarla e farle del male. Fortunatamente però il ragazzo gentile che l'aveva aiutata a rialzarsi era ancora lì vicino. Andò da lei facendo finta di essere il suo ragazzo per allontanarla velocemente. Ma ciao, ecco dov'eri, andiamo, ti stavo aspettando. Lei capì subito e si unì al gioco. Andati abbastanza lontani, le propose di portarla a casa con il buio era pericoloso. Così la accompagnò a piedi. Come mai così tardi sei uscita? Cominciò a raccontare degli straordinari e senza nemmeno volerlo si mise a piangere. A quanto pare quello era il momento per lei di sfogarsi per tutto ciò che era successo quel mese. L'uomo rattristato dalla cosa per quella notte disse semplicemente. E così quindi? Ascoltami bene, ti prometto una cosa, andrà tutto meglio dalla prossima settimana, ok? Non disse altro e se ne tornò a casa. Lei era contenta di essersi sfogata quel giorno e andò a letto un po' più tranquilla. La sua vita era diventata uno schifo, non aveva amici essendosi trasferita da poco. A lavoro veniva sempre sgridata e il direttore la riempiva di turni. I genitori non la contattarono più, pensando fosse tutto risolto. Dormiva pochissimo e non sapeva più per cosa stava lavorando così duramente. Aveva perso ogni voglia nella vita. La settimana passò. Durante un turno serale di mercoledì fece cadere un piatto davanti all'uomo che l'aveva salvata quella sera. Era sorpresa di vederlo lì e gli chiese scusa per il disastro e che gli avrebbe portato un'altra cena. Dopodiché arrivo subito il caposala. Cosa stai facendo? Metti subito tutto a posto. Oggi è la volta buona che ti licenziano. Parlerò personalmente con... Prima che potesse finire la frase, l'uomo arrabbiato le disse di tacere. Adesso basta, fate pulire qua, non c'è bisogno di altro. L'aveva salvato da una situazione molto scomoda. Come ti avevo promesso da adesso in poi le cose andranno meglio. Sto già facendo dei cambiamenti in questo ristorante. Lei capì quindi che era una persona importante. Mi scusi ma chi è di preciso? L'uomo sorridendo rispose. Sono Gustavo, il proprietario di questa catena di ristoranti. Di recente a causa mia hai subito tutto questo e non solo tu, ma molti altri dipendenti sono stressati. Sai perché ti ha chiesto di fare quei turni il direttore? Perché ho indetto un concorso e il direttore con il ristorante migliore avrebbe avuto un aumento e dei bonus per i dipendenti. Ma a quanto pare molti hanno fatto carte false facendo lavorare come schiavi tutti quanti. Ho parlato con quello di questo ristorante e gli ho detto di fare le valigie e andarsene. Farti fare tutte quelle ore era praticamente oltre la legalità, qualcosa di inimmaginabile. Eppure hai resistito tutto questo tempo senza battere ciglio. Non aveva mai sentito una frase del genere nemmeno dai suoi genitori, nessuno le aveva detto che si stava impegnando. Tutti le dicevano solo che faceva poco ed era inaffidabile. Per scusarsi Gustave la invitò a cena fuori ma stavolta sarebbe stata servita invece di servire. I due cominciarono così a frequentarsi per poi sposarsi tre anni più tardi. I genitori non vennero invitati al suo matrimonio e la chiamarono per chiederle il motivo. Ovviamente Carol non rispose nemmeno. E dopo quella chiamata le lasciarono decine e decine di messaggi in segreteria. Scoperto il capitale in banca del marito che era molto molto alto. Volevano probabilmente averne una fetta ma Carol non gli avrebbe più permesso di rovinarle la vita. Dopo la prima delusione si sarebbe tenuta per sempre alla larga da loro. Alla fine la sua vita fino ad allora ha avuto alti e bassi ma in qualche modo è riuscito a superare tutto. Come molti di noi dovrebbero fare a volte la vita ci pone davanti ostacoli quasi insormontabili ma trovando la forza di volontà e magari la persona giusta possiamo superare anche le montagne più alte. Noi ci sentiamo alla prossima gente stesso posto stessa voce storie sempre diverse.